GAMBI SOTTO Vieni le gambe. Bene, prendi la presa, prima presa, prima Gabri. Cercala, cercala. Bene, presa. Tu con la testa, ti tocchi addosso. Dai, dai, fai sopra, fai sopra. Dai, Gabri. Gabri, bravo. E qua, bravo, vieni bene. Vieni qua la gamba. Giudi, tira su. Scatpa, scatpa, Gabri, scatpa. Vai, Sproul, Gabri, guarda la tecnica sullo Sproul, vai. Bene. Via, lunga le gambe, via le gambe. Quando va lo Sproul, via le gambe, Gabri. Via, via le gambe. Via le gambe. Via, 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 qua è dura, qua è dura. Via, 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 qua è dura. Via, 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 sulla gamma. Uuui. Vuoi te? Tipo. Saluto, Gabri, piedi, guadricchi. Saluto. 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 Grazie